Noi del gruppo per le autonomie siamo convinti europeisti e pertanto pensiamo che una soluzione può essere solo trovata all'interno dell'Unione Europea, dove va superato il contratto di Dublin e dove tutti gli stati si assumono una quota di migranti. In tutto questo non possiamo dimenticare gli aspetti umanitari, i migranti che vengono tramite il mare vanno soccorsi e penso che la logica dei sovranisti non porta da nessuna parte, soprattutto quando minacciano di chiudere le frontiere all'interno di Europa c'è il pericolo che distruggono tutta l'idea di base dell'Unione Europea e noi come sudtirolesi ovviamente quando sentiamo che può essere chiusa la frontiera del Brennero per noi è una cosa gravissima perché per noi il Brennero ha anche una valenza maggiore forse di altri paesi che non vivono alcun fine e per noi sarebbe di nuovo un distacco della comunità di lingua tedesca se si chiudesse il Brennero.